Nessuna minaccia, nessuna estorsione, il fatto non sussiste. Si è concluso in questo modo un processo al Tribunale di Patti per una vicenda accaduta nel 2017 in due centri dei Nebrodi. Un 56enne era imputato di estorsione aggravata e continuata. Secondo l'accusa originaria, con minacce di morte rivolta ad una donna e ai suoi familiari, a voce e con sms, specificandole anche di saper usare le armi in quanto cacciatore, l'avrebbe abbandonata anche in una casa isolata di un centro dei Nebrodi e l'avrebbe costretta a consegnare 2.050 euro approfittando del suo stato di fragilità. L'uomo che è stato rinviato a giudizio è stato difeso dall'avvocato Tiziana Mastrantonio. La donna si è costituita parte civile con l'avvocato Carlo Faranda. Nel dibattimento però è emerso un quadro diverso da come era stato prospettato in origine. Si era verificata certo la dazione di denaro tra i due, ma l'uomo ha riferito che lo avrebbe man mano restituito. Concluso il dibattimento, il PM di udienza Tiziana Brancato, al termine delle discussioni finali, ha richiesto la condanna a 5 anni di reclusione e 2.000 euro di multa. Il giudice monocratico del Tribunale di Patti, Giovanna Ceccon, accogliendo la tesi del legale della difesa, l'avvocato Tiziana Mastrantonio ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste.